Soraliz, ma anche lei qui all'apertura per cinema Aguila, che sta facendo? Yes, anche io qui, ma anche lei qui, ma un tormento. I am diva? I am diva, io ho invitato a questo cinema, mia casa, mia home, a house. House, in tutte le lingue proprio. Ma che cavolo, guarda questo, scusi, scusi, scusi. Ma lei è romana o americana? Yes, I am American, I am anche romana, castelli romani. Sta aspettando il sindaco? Yes, aspetta il sindaco. Senta, mi fa vedere quel padocco che ha la mano, chi gliel'ha regalato? Questo è un regalo di Richard, my husband, ha preso una sbandata tremenda. I am diva, I am, 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 I am.